Dopo la prima sconfitta in campionato contro la Spal di settimana scorsa l'Under 17 capolista di Andrea Zanchetta ha subito l'occasione di rifarsi nel derby contro il Milan, partita sempre affascinante a prescindere dalla categoria la prima chance è nerazzurra, azione insistita di Di Marco sulla sinistra dopo un rimpallo la sfera arriva sui piedi di Sebastiano Esposito che si invola sulla fascia, si accentra, converge e prova al destro su cui Moleri è attento e risponde presente, la prima occasione della partita capita sui piedi di Sebastiano Esposito la prima occasione rossonera invece nasce da una punizione interista, batte il solito Esposito, Moleri sicuro in presa il portiere del Milan poi è bravo a rinviare subito e a trovare la difesa interista un po' scoperta Capone si invola solo davanti a Stankovic, il numero uno nerazzurra però bravissimo a restare in piedi fino all'ultimo a dipnotizzare l'attaccante del Milan, intervento decisivo, quello del capitano nerazzurro su Capone pochi minuti dopo si rinnova la sfida tra Capone e Stankovic, punizione del numero nove del Milan strepitosa la risposta con la punta delle dita di Filip Stankovic che si allunga sulla sua sinistra e mette in calcio d'angolo, periodo positivo questo per il Milan che riesce a far male spesso e volentieri in contropiede, sempre Capone il più pericoloso, parte in progressione, punta la porta, calcia forte dal limite dell'area ma trova sempre Stankovic, insuperabile, manda in calcio d'angolo, il destro dalla distanza del capitano del Milan, Inter che rimette la testa in avanti poco dopo con Chester, sempre con una soluzione da fuori area, calcia benissimo dal limite dei 16 metri ma trova solamente il palo, complice anche forse una deviazione provvidenziale di Moleri, un minuto dall'intervallo poi finalmente l'Inter capitalizza, intercetto di Moretti squizzato di prima per Esposito che sempre di prima trova Bonfanti sinistro di controbalzo, imprendibile per Moleri, gol meraviglioso quello di Nicola Bonfanti, un vero e proprio capolavoro, sesto gol in campionato per l'attaccante dell'Inter e Nerazzurri in vantaggio con un gol fantastico, un gioiello di Nicola Bonfanti, azione tutta di prima, bellissima, poi col sinistro sotto l'incrocio dei pali, lì dove Moleri non può arrivare, nella ripresa l'Inter trova poi anche il raddoppio, calcio d'angolo telecomandato sulla testa di Lorenzo Pirola che sovrasta Stanga e la mette nell'angolino basso lì dove Moleri non può arrivare, prima firme in campionato per il difensore interista, bravissimo a staccare di testa e a metterla sul palo lontano, il Milan prova poi a reagire ma è ancora l'Inter ad avere le chance migliori, Esposito trova un corridoio magico per mandare in porta Nicola Bonfanti, solo davanti a Moleri questa volta bravissimo, il portiere rosso-nero a debitare il colpo del KO, passaggio illuminante di Esposito, bravissimo Bonfanti a scappare via ma bravissimo anche Moleri a dirgli di no, meno bravo invece il portiere rosso-nero qualche secondo dopo quando pasticcia su un calcio d'angolo e per poco non regala Moretti il pallone dello 0-3, pasticcia in presa qui Moleri, Moretti pronto ad approfittarne per poco, non mette dentro il gol del Tris Nerazzurro, il Milan prova con carattere a trovare il gol, bella azione in velocità, Capone di Gesù Colombo, tiro di quest'ultimo ma Stankovic abbassa ancora una volta la Saracinesca ed esulta il capitano dell'Inter, intervento nuovamente fondamentale bellissimo, grande partita di Filip Stankovic, l'ultimo casino interista del match capita ancora Lorenzo Moretti che incorna sul calcio d'angolo ma c'entra il secondo palo di giornata per l'Inter, lui che aveva già segnato anche nel derby d'andata, ha provato a ripetersi anche ritorno, sfortunato a centrare il palo, a pochi secondi dalla fine ci prova ancora Capone su punizione, nessun pericolo, però per Stankovic questa è l'ultima occasione del match, finisce quindi 2-0 per l'Inter di Zanchetta che fa 2-2 nei derby di questo campionato e consolida il primato in classifica